Buongiorno a tutti, un grande ringraziamento da parte di Metronico Medicale a Luca Luciani per l'invito al Fisioforum 2018 e un grande ringraziamento a FisioGo per questa video intervista. Ringraziamo i numerosi partecipanti che provengono da tutta Italia, si contano più di 700 presenze oggi, ieri e domani presenti a questo importante convegno dove Metronico Medicale insieme allo staff medico di Atalanta Bergamasca Calcio presentano la metodica più innovativa per la riabilitazione dello sportivo che si colloca con il nome Tilt Therapy, progetto brevetto di Metronico Medicale. Nella giornata odierna ci sarà un workshop ottenuto dal fisioterapista Michele Locatelli che seguirà la lezione magistrale del dottor Marco Bruzzone in aula plenaria nel workshop successivo saranno analizzate le evidenze scientifiche a base della progettazione e delle scelte tecnologiche effettuate da Metronico Medicale per la produzione di Tilt Therapy. Dispositivo innovativo per quanto riguarda la fototerapia e la laser terapia in quanto in un unico device siamo riusciti a inserire fino a 4 lunghezze d'onda completamente svincolate, completamente modulabili e grazie al brevetto di Metronico Medicale e controllo termico riusciamo a gestire la temperatura, riusciamo a controllare la temperatura dei tessuti e quindi riusciamo a dare un input preciso, un feedback preciso al dispositivo affinché il dispositivo moduli in maniera corretta la luce sul tessuto che viene trattato. A Fisoforum 2018 stiamo presentando anche tutta la nostra linea, tutte le macchine prodotte da Metronic tra cui il dispositivo per onde ed urto Pulse Wave, il dispositivo per Tecar Terapia Dr. Tecar e delle innovative dispositivi per elettroterapia ed ultrasuoni combinati. Con l'occasione invitiamo tutti i fisioterapisti a partecipare ai numerosi corsi di formazione gratuita che Metronico Medicale tiene in tutto il territorio italiano sulla nuova piattaforma per la fototerapia Tilt Therapy. Trovate il nostro calendario sul sito di Metronico Medicale e sui social network, ci sono numerosi eventi in tutta Italia da Messina a Verona, passando per Torino, Udine, Bologna, Lecco, Bergamo, quindi sul territorio nazionale ci troverete presenti in varie sede per poter portare a conoscenza dei fisioterapisti e degli appassionati del settore, dei medici, dei medici dello sport, dei fisiatri, la nostra ricerca scientifica su cui si basa Tilt Therapy. Il prossimo grande evento insieme a Staff Medicale di Atalanta vedrà il 24-25 marzo il convegno più importante che si terrà all'interno di spogliatori di Atalanta Mergama Scalcalcio per il convegno tenuto dal progetto formazione Atalanta Metronic. Un saluto a tutti, ci vediamo presto. Grazie a tutti.